Un agente penitenziario è rimasto ferito dopo un'aggressione nell'infermeria del carcere di Campobasso. È stato colpito con calci e pugni e con una testata al volto da un detenuto italiano molisano, dopo che l'agente si sarebbe rifiutato di dargli alcuni integratori fuori orario. L'assistente penitenziario è stato portato al pronto soccorso del Cardarelli, dove tra le altre cose gli è stato diagnosticato un trauma cranico. Un episodio su cui è intervenuto il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo, che ha tenuto una conferenza stampa davanti al carcere del capoluogo. Io ho sempre detto che il Molise era un'isola felice, ma negli ultimi periodi non è così. Gli ultimi episodi, ritrovamento di droga nel carcere di Larino, nel carcere di Campobasso che buttavano la droga dall'altra parte, ma oggi, di ieri, questo episodio è veramente molto grave, che segue quello di Arezzo. Tutte e due gravissimi, un detenuto a coltello, un collega alla gola, e ieri abbiamo sfiorato la tragedia, perché se non era grazie all'intervento del medico e dell'altro detenuto, che hanno bloccato questo detenuto, che dopo aver colpito il nostro collega, sanguinando per terra, ha continuato ad infierire con pugni e calci. Abbiamo sfiorato la tragedia, adesso il collega fortunatamente non è grave, avrà una ventina di giorni di tempo per rimettersi, però questo evidenzia la situazione delle carceri italiane. Una situazione su cui è necessario intervenire subito, ha detto Aldo Di Giacomo. Io ho già contattato il capo dell'amministrazione penitenziaria ieri sera, con il quale non condivido che la situazione sia dovuta solamente alla carenza organica. La carenza organica è uno degli elementi importanti, ma in questo caso è marginale. Bisogna ricambiare il sistema, far fare il detenuto al detenuto. Oggi i detenuti in carcere hanno tutto, hanno tutte le pretese, e il sistema carcerale è cambiato con lo scorso governo, ha messo i detenuti nella condizione di poter pretendere tutto e questo porta a queste che sono le 18 aggressioni che tutti i giorni ci sono, al ritrovamento di 750 telefonini, 11 kg di droga e via discorrente. È una situazione che va assolutamente interrotta e sulla quale bisogna che il governo prenda atto che è impossibile andare avanti così. Quale è la proposta del sindacato? Chi subisce di più le violenze degli altri detenuti, paradossalmente, sono i detenuti che vogliono in qualche modo rieducarsi. Oggi è essenziale, ripeto, rimettere al centro il trattamento rieducativo che prevede che chi merita deve avere la possibilità in più rispetto agli altri di potersi rinserire nel mondo, nella società, magari anche con un lavoro. Ma in questo modo è assolutamente impensabile continuare. Oggi nel carcere si delingue quattro volte di più di quando si delingue fuori. È una situazione veramente esplosiva.